Presidente Castotaro rappresenta la società cooperativa Nuova Alba che si occupa prevalentemente della produzione della manna. La manna è un prodotto raro, è la linfa che si ottiene dalla corteccia del farsino facendo le incisioni che prevestiva la corteccia del farsino ed è una resina, un dolcificante naturale che trova ampio impiego nel settore cruciale, nel settore farmaceutico e soprattutto nel settore cosmetico. La nascita dell'azienda le principali difficoltà a cui abbiamo dovuto far fronte sono state quelle dell'accesso al credito, essendo chiaramente una nuova azienda, ma soprattutto dell'accesso alla terra dovuta sia al frazionamento sia alla rigidità dei propri unitari a vendere o affittare i propri cateni. Non abbiamo aderito, fatto richieste di finanziamento di giovani imprenditori, quindi accesso ai bandi di PSR perché volevamo immediatamente rendere attiva la nostra azienda e la nostra più grande paura erano le lungaggini burocratiche delle misure del PSR.